buongiorno e benvenuti nel mio canale oggi vedremo un'altra applicazione dell'intelligenza artificiale che si chiama leonardo ai e che più o meno serve per creare delle immagini a pronte di una descrizione possiamo andare qua su learn more per capire di più si può usare dei modelli già esistenti oppure creare dei nostri modelli con intelligenza artificiale qui ci sono altre informazioni si possono creare oggetti ambienti elmetti costruzioni arte concettuale come si fa a iscriverci a questo sito si va qua su launch app per lanciare appunto l'applicazione ci si clicca sopra qui si va su yes i'm whitelisted cioè un siamo nella lista bianca praticamente quindi ci si clicca sopra e qui si va su login to leonardo punto ai a questo punto noi dovremo inserire come vedete un indirizzo email e una password che naturalmente dovrà essere poi salvata io l'ho già fatto quindi adesso chiudo poi si può anche accedere con google oppure anche con microsoft oppure si può creare una un indirizzo email e una password già da noi dopo aver inserito un indirizzo email e una password però bisognerà verificare il nostro indirizzo ci verrà inviato un codice con un numero di verifica che dovremmo inserire nel nell'apposito modulo che ci verrà mostrato io ho già fatto tutto questo ecco infatti l'app leonardo ai questo è l'app questa è la home qui nella home ci sono tutte queste immagini come vedete sono immagini creati dagli altri utenti è piuttosto diverso rispetto a mi giorni e altre funzionalità dell'intelligenza artificiale come vedete qui ci sono 134 crediti se ho capito bene danno 140 crediti però poi questi crediti vengono azzerati e vengono diciamo così ricostituiti dopo un certo periodo di tempo credo addirittura soltanto dopo 24 ore quindi praticamente una funzionalità che non ha che non ha limiti almeno se ho capito così non lo so non sono assolutamente sicuro di aver capito bene qui c'è community feed cioè i feed della comunità e qui sono tutti quelli immagini creati dalla comunità tempo si clicca sopra un'immagine ecco fatto si vede appunto i prompt che è stato inserito e pro negativo cioè quello che non deve essere mostrato qui c'è il seed il seme diciamo così che è un numero di codice un numero di identificativo di questa immagine che poi vedremo cosa può servire chiudiamo personal feed ci sono le immagini create da noi ecco ma io ho creato queste immagini qua per per prova interessante sono queste funzionalità e ai canvas questo interessante ci clicca sopra come vedete qui c'è un un foglio voglio in cui creare delle immagini qui c'è un prompt e vedete che so cyberpunk city skyline e da out ne ho sia capito sia suggerire lecce e verranno create delle immagini ovviamente con questo pronto io come vedete ho usato 48 e quindi adesso mi rimangono 130 e ne avevo 134 questo è appunto io avevo detto guid out sky scrive invece qua ci sono tutti scaricere vabbè ora cosa si può fare si può andare qua per esempio su per la selezione e si può spostare in questo foglio come vedete ci sono quattro opzioni io le posso posso scegliere da queste quattro opzioni questa è la seconda la terza la quarta e scelgo una di queste quattro opzioni quella che vi piace di più scegliamo la seconda vado su l'accettazione quindi l'accetto a questo punto io posso spostarla per esempio così e posso andare qua su generate per generare la stessa immagine anche in questa area vado su generate e verrà generata anche in quest'area qua e naturalmente io posso scegliere e posso ecco aggiungere questa per esempio vado su asset ecco fatto posso andare su do masche scelgo la dimensione del pennello questa magari non mi piace ma suggerire e vediamo con che cosa la sostituisce io naturalmente tutto consumando sempre dei token ma poi se ho capito bene vengono ricostituiti chiaramente poi qui c'è quattro opzioni e scelgo quella che mi piace di più ecco c'è proprio quella vado su set ecco fatto mandato di fuori qui va bene non importa perché c'è la gomma qui ecco fatto io posso naturalmente poi scaricare questa immagine vado su download artwork e verrà scaricata l'immagine eccolo qua qui sotto la posso aprire e come vedete viene aperta questa è l'immagine che ho scaricato che ho creato con l'editor con questo editor torno intorno alla home vado su ok con editor ai canvas però c'è quello più interessante per la generazione delle immagini clicco sopra questo è quello più comune qui c'è sono il numero di immagini che si generano dire fuori come vedete sono 4 4 immagini per volta qui si scelgono le dimensioni come vedete di default si può scegliere una piccola dimensione 512 per 512 ma anche più grande dimensione 1224 per 1024 qui in basso c'è l'aspetto ratio per esempio questo è 11 cioè quadrate pure possono essere quattro terzi di standard oppure 16 noni cioè widescreen per esempio se scelgo a widescreen e allora qui come vedete viene 1844 per 752 quindi scelgo un'immagine di questo tipo oppure posso naturalmente andare spostarmi direttamente qua su con i cursori e impostare la dimensione che vedete in questo caso è 1152 1552 e naturalmente il rapporto dell'aspetto ratio è uno a uno ovviamente si posso scegliere così e quindi lasciare 1024 per 1024 e a questo punto io devo inserire un prompt qui incolliamo ecco fatto cani bianchi e marroni che stanno giocando in un prato fiorito qui si potrebbero aggiungere anche dei negativi prompt in questo caso da su perdere e si va su generate e qui verranno generate quattro immagini di che erano no 22 soltanto era per selezionato soltanto il 2 di 1024 per 1024 pixel si attende la fine della creazione di queste due immagini chiaramente io poi posso scegliere una di queste due immagini ecco finalmente li ha creati come vedete io posso cliccarci sopra per visualizzarli qui ci sono delle opzioni posso scaricare l'immagine oppure posso zoomarla vedete per ogni operazione viene mostrato anche il costo in token ci sono altre operazioni che si possono fare visto che è piuttosto lungo magari creare un'immagine così da un prompt e possiamo andare su prompt generation per inserire una un prompt di base per esempio e cute cat visto siamo in ambito di animali domestici si va su idea qui e qui mi mostreranno quattro idee che hanno come base appunto un cat carino qui come vedete c'è il primo prompt un soffice gatto bianco appollaiato su un davanzare soleggiato la coda ricciata attorno al corpo qui c'è il secondo prompt un malizioso gatto soriano con luminosi occhi verdi la sua pelliccia illuminata da un caldo tramonto arancione e un maestoso gatto nero la cui pelliccia luccica la luce di un cielo notturno stellato copio questo vado su image generator e qui sul prompt inserisco quello che ho copiato su generate e quindi in questo caso probabilmente ci metterà un po di meno a mostrarmi il risultato ecco infatti vedete questo è il risultato anche qui come vedete ci sono tutte le opzioni che abbiamo visto in precedenza si può fare anche in un altro modo cioè possiamo inserire una nostra foto qua upload o drag and drop una immagine oppure possiamo anche scegliere una immagine andiamo qua dai community feed possiamo scegliere un'immagine da qua per esempio questa immagine qua ci si clicca sopra come vedete c'è il seed cioè il seme si copia questa è una ragazza con i capelli neri e gli occhi blu io posso tornare indietro e andare su la generazione di immagini e qui l'attivo di usare il seed incollo il seed che ho copiato cioè l'id numerico e nel prompt ci metto come aggiunta qui lascio magari quattro immagini 512 per 512 che ci dovrebbe mettere di meno rond air and green lato su generate quindi utilizzerà questo seed cioè questo seme l'immagine che abbiamo visto però ci metterà i capelli biondi e gli occhi verdi su generate genera quattro immagini appunto ecco fatto l'immagine di prima è stata così modificata può piacere o meno ci si clicca sopra su una e si può naturalmente passare anche a quella successiva e chiaramente si può scaricare se si va su scarica verrà visualizzata così destra del mouse e si va su salva immagini con nome per scaricarla naturalmente sono immagini piccole 512 per 512 perché io ho impostato quella dimensione ma potevo impostarne anche un'altra cioè in download sostanzialmente quando si va in download e viene aperta l'immagine in un'altra scheda clicco esternamente torno nella home in personal feed quindi ci sono tutti i feed che io ho creato come vedete c'è questo ultimo immagini poi ci sono quelle dei cani che giocarono nel prato quello del gatto e quelli che avevano creato inizialmente questo diciamo così è un po un'infarinatura sul leonardo ai che è questo nuovo software che utilizza l'intelligenza artificiale appunto per creare immagini immagini che vengono create appunto in diversi modi come avete visto sia inserendo un prompt sia inserendo un'immagine già esistente oppure un'immagine caricata dal nostro computer andando su community feed si vedono che tutti le cose che sono state create dagli altri quindi avere delle idee su come utilizzare queste immagini e questo è tutto alla prossima volta